Vedi che ho fermato, sono le 8, questa stava addorminuta dentro al letto, per fortuna c'è stata pure una donna Perquisizione per tutta casa, io stavo a dormire, ho aperta la porta, mi faccio così, sto tutto con l'occhio incollato Se piomba dentro fa, polizia, sguaina la pistola, comincia a girare per casa e fa, aspetta aspetta che è successo Eh, è vero che ridivano, ridevano insieme, è vero, ridevano insieme, apprezzavano il 17-27, no? Io ho fatto, io ho fatto anche la registrazione, eh dai, mamma, è una cosia, c'era un dialogo amichevole, ragazzi Certo, giocate, è vero, prima di scia chissà, è saluto proprio, ma perché, perché, no, io come cosia, quando ci sono forse dell'ordine così Qual era il video? Quello del supermercato, quello che hai sparato in casa, ecco, aspetta Questa volta, amore, che è? No, non c'è, insomma Ciao, bravo Eh, perché il 27 ci sono nato, ci sono due numeri, insomma, ricorrenti e fortunati Allora, sono diventato 17 enti da te, buono di stare Doveva andare così, fa delle lezioni, doveva andare così, ho preso il muro, fa delle lezioni Al posto così Ciao Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.